Ciao a tutti, la ricetta che vi propongo oggi è un Nutella Cheesecake, una torta fredda adattissima alla stagione e golosissima. Adesso passiamo ai saluti, saluto Grazia con la sua bambina Shadin che mi segue e aiuta mamma nella realizzazione delle mie videoricette. Ciao Shadin, mi raccomando continua a seguirmi e ad aiutare mamma, ti mando un abbraccio e un bacione grandissimo. E adesso procediamo con gli ingredienti della videoricetta. Metto gli oreo all'interno di un mixer, li metto interi senza andare a togliere la crema all'interno, li trito finemente e di seguito aggiungo il burro profuso. Distribuisco la base di biscotti all'interno di un vassoio di cartone con la cerniera apribile oppure in una tortiera con cerniera apribile. Il diametro è 20-22 cm. Metto della carta a forno all'interno e la base di biscotti. Compatto bene il tutto con il dorso di un cucchiaio. Posso mettere in frigorifero a solidificare, nel frattempo preparo la crema. Metto all'interno di un contenitore il formaggio fresco spalmabile tipo Philadelphia. Aggiungo un cucchiaino di estratto di vaniglia oppure l'aroma di vaniglia o una bustina di vanillina e di seguito lo zucchero a velo. Mescolo il tutto con uno sbattitore elettrico. Posso aggiungere la panna vegetale per dolci già zuccherata e continuo a mescolare il tutto. Mescolo fin quando il composto non diventerà bello compatto. Posso inserire la nutella. Mescolo il tutto. La crema è pronta. Posso assemblare il cheesecake. Ho preso la tortiera dal frigorifero con la base di biscotti già solidificata. Distribuisco all'interno della tortiera la crema. Il cheesecake freddo alla nutella è pronto. Lo metto in frigorifero a solidificare per lo meno per quattro ore oppure per tutta la notte. Dopo quattro ore di riposo tolgo la torta dal frigorifero e la sformo. La livello se necessario togliendo eventuali imperfezioni. Procedo con la decorazione mettendo all'interno di una sac à poche con il beccuccio piccolo della nutella. Finisco la decorazione mettendo della granella di nocciole negli spazi. ed ecco il nutella cheesecake pronto per essere servito. Davvero semplicissimo. Si prepara in pochissime mosse. Spero che anche questa ricetta fresca vi sia piaciuta. Un bacione a tutti e al prossimo video. Ciao! 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 ... ... Grazie a tutti.